Olé, 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 olé Sì, quella degli abiti da sera E furbacchione Eh dai, 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 dai Forza che cominciamo Sì, a Luigi Cosa c'è? La cena Meglio cenare prima Proprio io, in carne ed ossa E Marco Ma no, non può essere lui, lui ha le chiavi di casa Insomma, chiunque sia fa in modo che se ne vada Non devono vedermi in queste condizioni Salve Salve Tu rimetti a posto la cucina Io intanto non rimetto la tuta Andiamo Allora facciamola finita Con i postini, con le monete da ciclista Sicuramente io ti sono altrettanto fedele Quanto tu lo sei a me, tesoro Tu, 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 tu Oddio, chi è? Bene, vado, altrimenti faccio tardi, Rufficio Signaro Buona giornata Anche a te Non farò troppo tardi, eh, tranquillo Nessuna fretta Sarebbe terribile se a metà strada ti prendessi un impatto Sarebbe terribile Sai tesoro, se rientravi qualche attimo fa avresti incontrato Vera Ma vera, non ti aspettavo Non ti aspettavo Non ti aspettavi, sono appena arrivata Facciamo Ti vedo Per that? Con sorpresa Che cosa ci vai tu qui? Come c'è finita la mia vestaglia sotto i cuscini del perme? Pierluigi, 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 casa, dolce casa, come direbbe vera, home sweet home. Un attimo! Facciamo una cosina veloce. Ma sì, ma facciamo una cosa veloce, ma chi se ne frega dell'ufficio alla faccia della crisi economica e vai! Ma Marco, gliel'hai detto tu! No, 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 è stato Pierluigi a dirgli il tuo cuore. Pierluigi, l'hai detto tu a tua moglie! Beh, tanto prima o poi l'avrebbe saputo! Beh, tanto prima o poi l'avrebbe saputo! Grazie! 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 Grazie!